E' quello che succede anche qua in Titegheu North che ti continua a strappare erba, cioè la resta, la terra. Allora, se al piove, guarda cosa succede. Ti vedi? Sì, filtra. Allora, al resto a bagnare. Sì. Però, dopo quanto tempo diventano fischi? Una volta che tutta l'acqua viene fuori. Questa qui è una spugnetta a base della cellulosa, dunque è materia organica. Sì. Ok. Allora, immagina che questa spugnetta è esattamente tutto quello che è al trinciato che noi mettiamo lì sul campo. Quanto al piove invece succede questa roba qui? Sì. 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 Sì.